qualsiasi popolo di Facebook, YouTube, Twitter, Messenger, Skype e tutto il popolo di Skype allora questa razione la vogliamo fare è l'aria e il mando per quando si sposi perché facciamo sempre queste nazionali ci vuole sempre tutti tutti però ora è più soffro ci fermiamo soffro per Armando e l'aria da quali anni di musica vai unico vai sei pronto? hai già vai come un metro po' il chitario? c'è la città che non cresceva da so' strada ma so' che l'uomo si è tutta da serata invece di scordata tutte le promesse da faccita a me è una buona vita o cosa sapeva che ma è l'illusione è un matrimonio? bravo! si può sì la città che non credeva non è sana vabbiamo vabbiamo Grazie per la visione!